Tutti cristiani chiamate alla santità, oggi purtroppo vi è una cultura dominante, la cultura edonistica, impegno dei battezzati a dare la testimonianza di santità di vita, vivere le beatitudini, umiltà, rispetto delle leggi, rispetto della persona. Se non iniziamo tutti, un po' ciascuno, o meglio molti, tutti dobbiamo fare la nostra parte per creare un mondo migliore. Padre Pio porta un'immagine della vita del cristiano, cioè la vita del medico e dell'ammalato, delle medicine e dei ferri che servono per una operazione. Certo non si può negare che prendere medicine, affrontare un'operazione chirurgica non è proprio andare a nozze, però sono quegli strumenti che servono a darci, a prolungarci la vita. Senza di questo corriamo il rischio di perdere completamente la salute. Noi riflettiamo la sofferenza provocata dal medico e possiamo anche accettarla o rifiutarla. Per le anime del purgatorio unico desiderio affrontare la sofferenza. Cioè non è il luogo della tortura, non è il luogo del fuoco così come si tramontava nei secoli passati. È un luogo dove le anime sono in compagnia della Madonna, sono in compagnia dei Santi, degli Angeli. Quindi è un luogo di attesa, di purificazione. Ora, questo luogo di attesa e di purificazione bisogna viverlo già da questa terra per gustarla nell'altra vita. E possiamo citare l'episodio di Fra Pietro sempre nel nostro convento di San Giovanni Rotunto. Una volta i frati si alzavano a mezzanotte per la recita del mattutino, delle lodi, oltre il mattutino. Ed era un tempo di preghiera abbastanza lungo, non meno di tre quarti d'ora. Capite molto bene che alzarsi a mezzanotte, interrompere il sonno e stare un'oretta in coro, col tempo amare rigido e raffreddarsi eccetera. Poi ritornare a letto era abbastanza scomodo, a meno che non si andava al fuoco comune per riscaldarsi un poco e quindi andare a letto. Bene, Fra Pietro insieme agli altri frati ognuno ritorna nella sua camera e Fra Pietro trova nella sua camera una sorpresa in quanto trova un frate seduto al tavolino, alla sua scrivania, che sta lì tutto incappucciato e che prega. Sì, pregare, dici Fra Pietro, è una cosa bella, ma proprio qui deve venire a pregare. E questo frate non si muove, non parla. E quindi Fra Pietro si impressiona e esce fuori e che cosa deve fare? E corre a bussare alla stanza di Padre Pio e dici c'è un frate che non parla, prega soltanto. E io non ho come fare e Padre Pio dice ma no, ritorna nella tua camera perché questo è un frate che è venuto a chiedere preghiere e sacrifici. Quindi ritorna, assicura che pregherai per lui e vedrai che andrà via. E così Fra Pietro affronta questa situazione e di fatti quel frate va via e si mette a letto, ma poteva mai dormire, prendere sonno. E quindi si gira e si rigira e fa le sue considerazioni. Ma proprio nella mia camera doveva venire e non poteva venire di giorno a chiedermi l'aiuto con le preghiere. Ecco, è la persona sofferente che fa tutte le varie osservazioni e anche giuste. E poi fa un discorso molto, secondo me, molto importante. Voglio farmi santo, così non andrò in purgatorio. Forse questa lezione di Fra Pietro serve veramente anche a noi. Voglio farmi santo, così non andrò in purgatorio. Dirò a tutti di farsi santi per chiudere il purgatorio innanzitempo. Così dicendo, si assopì fin quando la campanella non lo svegliò per la preghiera mattutina e per metterlo nella condizione di farsi santo.